Nel 2016 abbiamo diversi eventi, nel 2015 è stato per noi il trampolino di lancio con le manifestazioni effettuate, parecchie associazioni hanno preso visione di questa bella struttura e hanno prenotato diversi eventi per il 2016. Stamattina c'è il tiro con l'arco e la prima manifestazione del 2016, che però ce ne saranno altre quattro già contate e fissate per campionati interregionali. Poi c'è una novità, c'è il campionato italiano per quello che riguarda la danza. L'associazione è stata qui proprio nel giorno in cui abbiamo fatto la manifestazione con i bambini e quindi hanno prenotato per il 6 marzo, che è il campionato italiano. Poi c'è a febbraio il campionato di karate, un'altra bella manifestazione con due o trecento atleti. Quindi come vediamo il Palacadion prende piede. Poggio Grazie a tutti.